Benvenuti a MeteoGiulianci.it, domani martedì 10 aprile, da prima bel tempo su tutta l'Italia, ma poi nel pomeriggio e soprattutto nella sera peggiura sulle regioni di nord ovest e poi sulla Toscana per una perturbazione in arrivo dalla Francia. Ma vediamo la mappa del satellite virtuale, vedete il nord Italia ricoperto da un'ore, che tempo allora farà domani? Bene, il sereno su gran parte del centro sud e sul medio adriatico, molte nuvole sul resto d'Italia, le piogge sulle regioni di nord ovest già a partire dal tardo pomeriggio, le piogge sulla Toscana a partire dalla sera, piogge anche sulla Sardegna, debole nevicate sulle Alpi centro-occidentali. Per quanto riguarda le temperature massime, queste saranno in calo sulle regioni di nord ovest. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora un buongiorno. Grazie a tutti.